a me non mi interessa che tu vuoi una serie di cose che ne devono curare più allora ti vuole dare un rapporto no no, sull'amianto com'è messo qui? hanno fatto delle rilevazioni? sull'amianto è stata fatta una rilevazione? sull'amianto è finita qui non c'è? no, ma qui hanno fatto la campionatura o no? la campionatura, quanto è stato detto, è stata fatta su tutti gli edifici scolastici quindi questa abbiamo la semplice la campionatura dell'amianto è stata fatta sui edifici scolastici quindi questo compreso? no, tutti gli edifici scolastici anche questo, quindi su questo è stato fatto e qui non sappiamo qual è la situazione dell'amianto non c'è? no, presto